Appunto lottiamo contro uno smontillamento della scuola pubblica che va avanti da vent'anni, contro tutti i governi di qualsiasi orientamento politico che da anni e anni continuano a togliere fondi alla scuola pubblica. Noi vogliamo una scuola pubblica che sia al centro delle politiche di tutti i governi, che tutti i governi e tutti i politici capiscano che l'istruzione e la formazione debba essere al centro di tutto. Noi all'interno delle nostre scuole viviamo praticamente dagli all'istruzione perché abbiamo classi minuscole e sovraffollate con 30 studenti dentro, non abbiamo una continuità didattica perché i professori sono spalmati su più classi, i professori sono frustrati all'interno della mia scuola, metà dei professori hanno metà classi nella mia scuola e metà dall'altra parte di Roma. Come la vorresti? Dimmi in due parole come vorresti la scuola. Io vorrei una scuola pubblica che sia uguale per tutti e non come stanno cercando di farla diventare con la proposta di legge 953, voglio una scuola dove si faccia realmente cultura e informazione e non dove si ripetano cose a macchinetta da parte di professori frustrati ai quali non viene riconosciuto il loro ruolo e la loro importanza all'interno della scuola. È molto difficile. Lo so, lo so, in casa la crisi si sente, il fatto che ci sia crisi per tutti e quindi anche questo incida poi sulla scuola. Si sente la crisi? Certo.